Buonasera, buonasera dal Redo allo Zenzero, qui mi trovo a Enna, dietro c'è la chiesa, guardate, mi sono messo da un posto strategico, non so se mi sentite, siamo qua a Enna, il Redo allo Zenzero, sono da un posto strategico perché è pieno, 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 un abbraccio a tutti, qui c'è il pianone, c'è migliaia e migliaia di persone, però voglio la conferma, se mi sentite, se mi sentite voglio la conferma, qui mi trova Enna, il Redo allo Zenzero, siamo qua, siamo qua, aspettiamo che ora in effetti c'è tutto organizzato, c'è marea, marea di polvo, qui c'è la chiesa, qua, allora mi ho trovato un posto strategico, sotto a Napalma, qua, c'è l'inverno, c'è, mi vedete oscuro perché effettivamente siamo oscuro, ora vi dico intanto salutiamo un po' di amici, Carmelo Scerra, ciao Varsallo, ciao Varsallo, si sente forte, si sente forte, Maria Andolina, ciao Maria, qui effettivamente c'è proprio il pianone, ovunque ti smuovi c'è un sacco di persone, un sacco di persone, qui vi ho trovato un posto vicino alla chiesa perché oggi i giochi artifici sono cambiati, ora li fanno tutti al campo sportivo, al campo sportivo, in questo momento ho perso mia moglie, non ci potete credere, ho perso mia moglie in questa folla, perché io camminando, camminando, almeno vedete tutte queste persone, ho perso mia moglie, allora vediamo che la folla magari quando finiscono i giochi artifici perché non senti il talebano, ho chiamato, ma con questo ciao Saed, grazie Maria, grazie Maria, salutiamo Salvo, Santo Rapisarda, un abbraccio, si ti sentiamo, grazie, grazie, perché ho l'auricolare, ho l'auricolare messo, Beatrice Di Salvo, ciao, qui siamo a Enna, festa alla Madonna, ciao Claudio, scusami perché sono stato in servizio e purtroppo non ho potuto irrispondere, quanto stacco le chiamate, sono in servizio perché io sono pure il peribere dei compieri, tu lo sai, dopo ci sentiamo, domani mattina ci sentiamo, Giuseppe Malla, ciao Giuseppe, Isabella dell'Aera, ciao della relazienza, Claudio Catantò, ciao Claudio, Cettina Russo, ciao Cettina, ciao Ebifanio Beccaria, ciao Gigi Rizzo, ciao Seed, Saed ciao, Francesca Pace, ok Vassallo, sei sempre tu numero uno, sei tu numero uno, ciao Vassallo, questo video per tutti gli emigranti che vivono all'estero, un abbraccio e dopo questo pure dedicato e salutiamo Radio Orrade, dell'amico nostro, dell'amico nostro, Salvatore Sido, dopo voglio salutare Siciliani del Canada, Siciliani e tutti diciamo i gruppi che condividono tanti amici dei vari gruppi, un abbraccio a tutti e un saluto, qui ci troviamo a Enna, credo lo Zenzio fa piacere magari qualcuno dall'estero di Enna oppure della provincia, magari che questa festa non la può vedere, del poco che vi offro, addirittura non me ne sono accorto, abbiamo la TV, sono vicino, allora ho visto che mi trovo il pubblico, allora qui c'è una TV a sinistra, ora ora mi domani, effettivamente allora vuol dire, vuol dire che il gusto, il re del Zenzero ha veramente occhio, dove mi sono messo, però la cosa più strana è che ho perso mia moglie e mia nipote che era però non era solito, però lei sa che io sogno sempre in giro, quando vai trovando il gusto per fare diretto, ma insomma, caso, ora più tardi magari dopo finiamo la diretta a cercare, intanto qui faccio l'appello a chi trova mia moglie, fa un piccolo messaggio, ok Salvatore Sidotti, ciao Salvatore, salutiamo, ciao Gianfranco Cirino, salutiamo tutti i miei colleghi, in questo momento sono in servizio, c'è la Sabbe 1 che è in attesa, che è sparando gli ore ai giochi d'artificio, che sono qua ora spettacolari, in attesa siamo, stare attenti perché può scoppiare qualche ingegno, è cuccioppo, dobbiamo stare attenti, è occhio vivo, occhio vivo perché è notte e sera perché ora questi giochi sono spettacolari, ma noi ci divertiamo in questo momento perché io sono in riposo, però stiamo attenti ai miei colleghi, effettivamente è pericoloso quando uno va a spegnere l'ingegno. Lì stanno scelto, ciao, Antonino Pueo, ciao Antonio Caloggio Relipani, Davide Telluto, salutiamo tutti dalla Sicilia, Michele Cravotta, ciao Michele, Carmelo Montalbano, ciao Carmelo, Emanuela Piccone, ciao Emanuela, Tina Timbanaro, ciao Tina, Lina, Angela Di Mauro, ciao Maria Antolina, dalla Svizzera, non so se sei a Enna, se sei a Enna, Maria Antolina, forse è alla Svizzera, lei è di Enna, questo video ci fa veramente, veramente piacere, Giuseppe Lombardi, ciao Giuseppe, ciao Lina, Biristi, Mipitella, ciao Biristi, un abbraccio a Biristi, Antonio Pueo, ciao Antonio, Carmelo D'Agela, ciao Carmelo Scerro, Alberto Pimbanello, ciao Alberto, Cesare, ciao Cesare, benvenuti dalla diretta del Re dello Zenzero, ciao, 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 Russi Chidi, Russi Chidi e Bè, allora, ma dove sei? Un momento, Giacomo Celeste, ciao, Gianni Nasca, allora, ciao Venezia, Venezia, Maurizio, Francesco Salamone, ciao Santo Dalù, Aleccio Scallino, Mario Volino, salutiamo a tutti, salutiamo, allora, 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 Gina Campanella, dove siamo? Siamo a Enna, l'ho detto e lo ripeto, Enna, Enna Alta, Enna Città, oggi si festeggia la patrona Santissima Maria, Santissima Maria, visitatore, mi hanno corretto perché forse ho sbagliato magari a dirlo, ho sbagliato a dirlo, ho sbagliato a dirlo, Angelo Franchino, ciao Angelo, Piero Spantinato, ciao Salvatore, per quelle di ferie si parte per la Sicilia, bravo Salvatore, buone ferie, ciao Angelo, Angelo Franchino, ehi, Biris, ciao Biris, i tuoi video li ho condiviso per il Zenzio del Limone, ti fanno molto piacere, ciao Liliana, mia nipote, ciao Liliana, Dario Cannarozzo, Primo Stivaletta, ciao Primo, Valentina, Silvana del Popolo, ciao Fabio, Zenzio, sono a ritardo, qui effettivamente, qui sono al mondo, ciao Roberto, Maurizio, Francesco, ciao Pati, evviva Maria, ciao Francesco, Vito, Laura, Rizzo, ciao Vito, Ciao Bifanio, ciao Bifanio Giustizia, Biris, hai fatto bene, grazie, grazie, le puoi mettere tu stesso però sul profilo direttamente, magari io poi metto, le condivido tu, Biris, allora poi ti sparano, ora vi dico, io mi ho messo un punto veramente spettacolare, perché effettivamente qui sono, come vedete, qui ho una TV a sinistra, vuol dire che ho posto la io mi sono buono, io ho ormai queste dirette che faccio, ho veramente occhio, occhio clinico, occhio clinico, effettivamente, e dopo, mentre che siamo qua, qualcuno magari non sa che dei nuovi, il sottoscritto qui è il re dello zenzio, il re del diretto, qualcuno magari può pensare che qui diciamo in diretto magari può dire veramente, dice che è questo, io sono il re, il re è quello con la parola, con la parola, il re dello zenzio, Filippo, ciao Filippo, Pietro Villafrante, ciao Pietro, Salvatore Catena, ciao, Jennifer Palmisano, Gino Leone, sei grande, 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 grazie, grazie Gino, Angela Furno, ciao Angela, allora questo video ho molta richiesta, è stato richiesto da tanti emigranti che vivono all'estero, persone di Remina e provincia, magari della Sicilia, mi hanno mandato i messaggi, fortunatamente oggi sono libero, libero, ma no libero diciamo, le altre cose, libero di lavoro, sono in riposo, domani prendo servizio alle ore 5, 17 e 30. Allora, Robert Lamonaco, ciao, hello, from Naples, Florida, ciao Napoletano, un napoletano della Florida, allora, Salvatore Pestiglippo, ciao Salvatore, collega, ciao collega, Jessica, Jessica Lippani, Magrez Lippani, ciao, Angelo Furno, Angelo Furno, Angelo, ciao Angelo, qui parla sempre sete in carne e ossa quando è il re dell'azienda, ma sti Yucco di Fuku un bacio, hanno detto che c'era, quando hanno incominciato 5 minuti, ma hanno passato un sacco quanto minuti che sono in diretta, ma ancora non se ne parla, e questo gioco d'artificio, diciamo, Yucco di Fuku in siciliano, è unico, diciamo, forse in Sicilia, non lo so se... Ora, provare per credere, qualcuno magari, che siamo collegati in un sacco di persone, può dire se questo Yucco di Fuku, vuol dire, è buono. Però questa volta cambia, lo stanno facendo al campo sportivo, campo sportivo Gaeta, come vedete, è lì fronte, là sotto, dove so c'è a sinistra quella palazzina, se vedete, non so se vedete, il video è di vostro gradimento, vostro gradimento. Ciao Rosa Sutera. Vincenzo Puzzanco e Ramino Puote. Angelo Rau. Ciao Angelo. Agragas, San Leone. Ciao Agragas. Sono stato a San Leone ieri, bellissimo a San Leone, bravissimo. Ti aspetto a settembre. Giuseppe Arena. Pietro Capizzi. Allora, Ava. Ciao Ava. Ava. Ciao Ava. E salutiamo tutto il gruppo del Canada, Siciliani. Ava. Ava. Paradiso. E gentile Livia. Un abbraccio. Qui ci troviamo Ava. Aenna. Questo c'è tutta una marea di persone, una marea di forze pub, dell'ordine, ben sistemate e ordinati. Si aspetta questo evento, la Madonna. Siamo guardateci. Qua c'è la chiesa dove effettivamente è custodita la Madonna, ma jave, jave, un sacco di oro che poco fa le battuglie carabinieri l'hanno tolto e l'hanno portato alla sicurezza. questa Madonna è piena, piena, pienissima di oro. Forse una delle Madonne più ricche, creda sarei povera come facessi romano. Ok. Questo lasciamo perdere. Rudy Giacchetto. Ciao Rudy. Michela Ruggedi. Ciao Michela. Mariella Scerso. Ciao Mariella. Giuseppe Arena. Tutto bene. Tutto bene. Ciao Mariella. Salutami Angelo. Ciao Angelo Zinna. Ciao Angelo. Roberto. Grande partizio. Grazie. Grazie Roberto. Ecco, qui c'è mia moglie. Mia moglie in linea. L'abbiamo trovato in linea. Allora, comunicazione in diretta. Allora, dico a mia moglie che io mi trovo esattamente vicino alla chiesa. Doppia. Ad angolo. Quando c'è sotto la palma. Qua. Ora ti faccio vedere. Vedo che mi trovi. Sotto vicino alla palma. La trovai un angolino. Bello. E vicino di me, se tu vedi, se sali c'è la tv. Una tv locale o una tv regionale. Non so. Qua sono. Quando mi perdiamo. Va bene. Andrea Arinaudo. Ciao Andrea. Ha vinto il Belgio. Complimenti al Belgio. Complimenti. Complimenti Giuseppe. Allora, io ho detto dall'inizio. Luigi Campi. Ciao. Luigi Campi. Belgio Brasile. Allora, Michela Cannarozzo. Michela Giuseppe Giardina. Ciao Giuseppe. Allora, io ho detto che ancora i mondiali dovevano incominciare. che il Belgio per me era una squadra rivelazione. Che poteva vincere il mondiale. E mi fa molto molto piacere. Complimenti al Belgio. Perché complimenti, purtroppo, per gli amigranti che vivono in Belgio. Magari è una cosa brutta. Però, essendo che l'Italia non c'è, il Belgio ha stato veramente gentile con i nostri compaesani che vivono all'estero. Era giusto magari tipare per una squadra che effettivamente ha ospitato centinaia e centinaia di emigranti e dare loro effettivamente qualcosa di positivo alle famiglie. Complimenti al Belgio. Io effettivamente faccio il tipo per l'Italia. Però, visto che c'è l'Italia non c'è, spero che vince il Belgio. Questo, voglio dire, questo mi fa piacere. Ma per la storia che ha avuto il Belgio. Per tutti gli emigranti che magari qualcuno che si trova il Belgio è brutto dire. Magari vedere il Belgio festeggiare. Ma però dobbiamo dare onore, diciamo, a questa nazione per quello che ha fatto per gli italiani. Ciao Silvana Carnovale. Ecco, ecco, ecco. Sono partiti i giochi d'artificio. Questo è l'inizio di una serie. Ora dobbiamo puntare quanto dura. Guarda, guarda. Allora, incominciano i giochi d'artificio. Giochi d'artificio. Ignazio Caronia. Ciao Ignazio. Allora. Giochi d'artificio, senti. Un momento. Stanno incominciando. Là si trova il campo sportivo. Dovete? Bellissimo, spettacolare. Ancora. Questa è una serie di giochi. Buona visione. Buona visione. Questo è il gioco d'artificio. Buona visione. Mi fa veramente piacere. Veramente piacere. per quelli che stanno volendo. Per quelli che stanno volendo. Per quelli che stanno volendo. Per i grandi che vivono all'estero. Ho trovato questo posto meraviglioso. Per avere la migliore visualizzazione. per quelli che stanno volendo da lontani. Io per tutto il mio orgoglio cuore. Non lo so. Ciao Guido. Guido Di Maira. Carlo Costanza. Ciao Carlo. Ciao Ignazio. Ciao Ignazio Caraniac. Naturissima Fratelli. Ciao. Salvo. Guilino. Ciao Salvo. Giustanzi. Ciao. Ciao Gratini. Ciabini. Salvatore Cavallo, ciao Salvatore Cavallo, grazie, questa è una visione in mondo visione dell'azienda, ciao Salvatore Curto, questi siamo collegati in mondo visione, proprio con tutti gli emigranti, da grandi amici, magari ci sono persone ammalate che non possono uscire da casa, magari da Emma e provincia, almeno faccio felice a chi magari non può uscire vedere questo spettacolo e la Madonna che le protegge a tutti, visto e considerato. Nicola Lombardi, ciao Nicola, Angelo Barzon, ciao Angelo Nicomio, come video, Gerdano Barbarino, ciao, come video potete darmi l'ok come la visuale, come si vede, come video. della visuale da tempo. Grazie Ava, Ava è di canto e dell'azienda di canto, è sempre a disposizione veramente io questo gusto l'ho preso veramente a cuore, sono veramente meravigliosi, tu e Lidia, un abbraccio, Lidia mi fa morire delle risate quanto spiega le parole in siciliano, mi fa anche ridere, quanto ha detto tanto, lei spiega veramente a tutti i compaesani, magari nati là, magari non sanno che cosa significa, mi fa anche piacere, il piacere mi fa veramente, comodemente veramente Ok Angelo, grazie caro mio, ottimo avviso, grazie, grazie a tutti, grazie, grazie veramente, grazie almeno possiamo dire che qualcosa di positivo è vero lo zenzoro, fa qualcosa di positivo grazie a tutti, 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 grazie a Continuo mentre vediamo tutto l'artificio, magari non si sente male, auguro a tutti e a tante persone in questo momento che sono al lavoro e magari non possono vedere che con i miei video faccio felice a tutti, sia gli anziani, sia persone che lavorano, sia persone che magari in questo momento si trovano e i posti sconditi, in senso che sono magari dentro, che hanno fatto qualcosa, saluto tutti i detenuti in questo momento, tutti gli ammalati, salutiamo a tutti veramente di buoni dai. Maria Elena Casale, ciao Maria Pedrello, ciao Valentina Andrea, ciao Nicola Semanaletto, ciao Nicola Marziella Cassaro, ciao Marziella Lori, ciao Lori Grazie per questa lezione, Lori Diema, ciao Lori Gino Mangalati, ciao Gino Maria mi fa piacere che stai guardando per te se domenica vai a San Leone dimmi che ci vediamo ok domenica mi sa difficile perché se sono stato libero domenica non so se è domenica che sono stato libero ma se non è domenica io ci vado po' di settimana è la stessa cosa Mario, Mario Nespero, ciao Mario Buona visione Marco Rosa, Giuseppe Incaudio, ciao Bernadette, ciao Bernadette Bernadette, ciao Bernadette, ciao Bernadette non so se c'è qualcuno magari vuole intervenire, magari in diretta vuole intervenire in questa situazione mi fa molto piacere, mi fa piacere pure a tante ciao compagno Emanuele, compagno Emanuele, salutami papà Buonasera, signora Lucia, signorina, signora, signora, ciao Giuseppe Malla, ciao Peppe, Peppe, mi abbraccio qui si è messo in collegamento in questo momento con il ricordo di Zenzero qui si chiama Enna, si festeggia Santissima Maria, patrona di Enna dove effettivamente è un gioco d'artificio veramente spettacolare e la Madonna merita tutto questo, in sostanza, per Enna e auguriamo che benedicca veramente a tutta la persona che in questo momento hanno bisogno Ciao, suorina Salvatore io ti ho accettato, ciao Genzo Calazzi, ciao Salvatore Salvatore io ti ho accettato, salvatore io ti ho accettato, al giunto in corso ciao 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 bella sia sono contenti effettivamente stiamo collegati eppure con gli interventi e le grazie a te magari c'è questo messaggiamento il momento lo togliamo perché non c'è un confattamento che ne ha scusate Salvatore ciao scusate ovviamente dobbiamo vedere i giochi d'artificio arianti ai ragazzi ciao arianti arianti allora questo è veramente un spettacolo veramente un po' di persone siamo e anche un po' di più alto l'Italia dove oggi si festeggiano solo qualche inoltre non si possono vedere il percorso a qualche persona magari si assiedono si annoiano magari vedendo questo è un po' di vedere il percorso inoltre c'è il percorso inoltre l'EPE ci sono e ci vediamo il percorso qui è la arianti che il percorso Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vincenzo Tursi, ciao Vincenzo. Allora, io dico una cosa, Salvatore non prenda la linea. Allora, qui c'è una polla immensa. Parola totale, ciao, vediamo Salvatore si mette lì, nel video sta festeggiando con Belgio. Siamo qua, ci deve smaltire piano piano, in questo momento che... Allora, qui c'è una polla, qui c'è una polla, qui c'è una polla... Allora, qui c'è una polla, qui c'è una polla, qui c'è... Allora, poi c'è una polla... E un'epas paura qui c'è...